Dal ritiro di Santa Cristina delle Aquile, Patrick Sciuria. Patrick, primi giorni di ritiro, quali le tue impressioni? Impressioni molto positive, anche perché più o meno c'è il gruppo dell'anno scorso, il mister lo conosciamo, sappiamo come lavora, sappiamo che lavora quasi sempre con la palla, quindi gli allenamenti sono piacevoli e in più migliori ogni giorno sia tatticamente che fisicamente. Ecco Patrick, questo è il tuo secondo ritiro con Mr. Bielisa, l'anno scorso davvero la sfortuna ti ha incontrato per strada, quest'anno quali i tuoi propositi? L'anno scorso è stato un anno non fortunatissimo, è stato fermo quasi tutto l'anno, però me lo lascio alle spalle, come si dice si torna più forte di prima, quest'anno tutta la voglia che ho la voglio mettere in campo e spero di far bene. Il tipo di gioco di Mr. Bielisa favorisce giocatori come te, brevi linei, rapidi nell'uno contro uno, cosa ti aspetti? No, guarda, sinceramente mi piace molto come gioca il mister, si fa giocare gli esterni, sono molto, si gli esterni li fa giocare molto, sono, come posso dire, esatto, si, molto importanti il gioco del mister, quando c'è la palla ci vuole molto larghi, quando c'è la palla gli avversari, vuole il campo ristretto che così non ci imbucano. Ecco, a detta di tutti questo è un gruppo molto compatto, giovani e meno giovani e più esperti fanno un solo gruppo, ecco, chi dei più esperti ti è più vicino, ti dà consigli, ti sprona a migliorare? Ma sicuramente sono tutti dei ragazzi fantastici, sono proprio ragazzi d'oro, i più stretti per me come un fratello maggiore Catellani perché mi aiuta sempre, quando c'è da tirarmi le orecchie mi le tira, ma quando c'è da difendermi è sempre presente, però anche tutti i ragazzi sono veramente spettacolari. Vengo domande? Un anno saltato, nel momento in cui c'era l'esplosione, hai morso il treno sul bongo, come hai passato quest'anno non solo 40 fisicamente ma anche i combattenti? No, sicuramente è stato un anno che mi è servito molto anche a riflettere, a vedere da fuori anche i compagni, sì, diciamo che mi sono mangiato un po' le mani perché ero partito bene, ho fatto le prime tre partite, le avevo giocate, però nel calcio succede anche questo e mi sono messo con la testa bassa a lavorare, cercare di recuperare il meglio possibile e adesso sono di nuovo qua pronto a riscattarmi. Hai compagni importanti in squadra, quindi puoi imparare anche molto da tanti compagni che hanno anche dell'esperienza. Certo, sono compagni che sono bravi tecnicamente, soprattutto sono dei ragazzi d'oro e ti permettono anche di farti crescere aiutandoti e come dicevo prima tirandoti le orecchie quando sbagli, però soprattutto ti aiutano. 4, 2, 4, 4, 3, 3, un esterno o un esterno? Sì esatto, come gioco al mister sì, vuole gli esterni che spingono molto, però mi sento più un esterno di centrocampo a destra, piede invertito che rientro e gioco. Non lo so, io ho ancora due anni di contratto qua, penso ad allenarmi qua, far bene, mettermi a disposizione del mister e della squadra, poi stanno le scelte al mister. Grazie Patrick, buon lavoro. Grazie.